Allora iniziamo questa giornata con gratitudine, con gioia e segniamoci con il segno della croce e lo faremo in maniera così regale, così nobile, con tanta consapevolezza, ricordando che Dio in questo atto vuole ripetere la creazione dell'uomo e noi riceviamo quest'atto, Dio ci dice io ti ho creato nell'immagine del figlio mio e desidero per opera dello Spirito Santo, di farti ritornare a quello stato di purezza originale, così come Adamo venne creato. Allora facciamo eco al Padre, al Figlio che ci benedicono segnandoci con la croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che cosa possiamo fare adesso se non l'atto più importante ed essenziale della nostra vita, quello di fonderci nella Divina Volontà. molti, penso tutti noi stamattina abbiamo compiuto un atto di dire Signore ecco al sorgere del giorno voglio fondere la mia volontà nella Tua. Ripetiamo questo atto, atto preventivo, questo atto preventivo è molto potente perché con qualsiasi tipo di parole, di pensieri che vogliamo utilizzare dentro di un atto potente perché così come noi lo vogliamo il sole della divina volontà sorge in noi. Allora è come se andiamo a scontare, ad anticipare tutti gli atti della giornata. Noi andremo a fare questo, questo e quest'altro, però io appena apro gli occhi e dico Gesù guarda, tutti gli atti di questa giornata, come se li volessi anticipare in questo punto, guarda, già te li metto tutti nella Divina Volontà. Allora facciamo questo atto preventivo. Gesù dice a Luisa, anzi Luisa dice a Gesù, dice oddio se un atto fatto nella Divina Volontà ha tanto valore, ahimè quanti me ne lascio sfuggire. Allora Gesù dice c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. L'atto preventivo è quando l'anima al primo sorgere del giorno decide e conferma di voler vivere e operare sempre e solo nella Divina Volontà. Allora previene, anticipa tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel volere divino, è come se li riducessa ad un punto solo. Con la volontà preventiva, dice Gesù, il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti, come dentro ad un solo atto e questo supplisce all'atto attuale, supplisce a tutti quelli che poi andrò a fare nel corso della giornata. Allora adesso vogliamo fare l'atto più importante della nostra vita e ripetere questo atto preventivo e diciamo Gesù in questo giorno così glorioso, la Domenica delle Palme, in cui tu vieni osannato forse come un re umano, noi ti vogliamo osannare come il nostro re divino, re del re, re del regno della Divina Volontà e lo vogliamo fare nel modo più semplice, qui diciamo siamo soltanto dei bambini balbettanti, però ci mettiamo nelle tue braccia, vieni volontà divina, vieni a formare il tuo sole in noi. Ecco, allora fondiamoci parte per parte nell'umanità di Gesù, magari io ecco lo esprimo con la voce, ciascuno lo può esprimere all'interno del segreto dell'anima con Dio, io non posso entrare nel segreto adorabile, santissimo dell'anima di ciascuno di voi con Dio, questo è un prodigio che soltanto Dio vuole, conosce e gode. Allora, Gesù innanzitutto voglio fondere la mia intelligenza nella vita, il mio intelletto nel tuo, e come il tuo intelletto è collegato con quello di tutte le creature, contiene i pensieri di tutte le creature, io con il tuo intelletto voglio penetrare nell'intelletto di ogni creatura, in nome di tutti, adorarti, ringraziarti, contemplarti, conoscerti, comprenderti, comprenderti e dare gloria e adorazione al Padre con la potenza della divina volontà in tutta l'opera della creazione. Quindi con quest'atto preventivo, fondendoci nell'intelligenza di Gesù, abbiamo dato gloria al Padre in tutta l'opera della creazione, facendolo nell'intelletto di ogni creatura. Gesù, la mia memoria, la mia memoria, sperdila nella tua, dammi la tua per ricordarti, per ricordare sempre i tuoi insegnamenti, le verità, le cose che andrò ad imparare quest'oggi, le verità del vivere nel divin volere, la tua memoria tiene tutto presente e onniveggente, è come se tutti gli atti fossero presenti allo stesso tempo, allora dammi l'omniveggenza della tua memoria, così tutti i tuoi detti, i tuoi insegnamenti, le tue pene, la tua vita, i tuoi atti, li possa tenere sempre presenti nella mia memoria ed acquistare la tua memoria divina. E allora, con la tua memoria, io vado con questo filo di luce del divin volere che tiene collegate tutte le memorie delle creature, io prendo questa autostrada di luce e posso entrare nella memoria di ciascuno. E all'interno della memoria di ogni creatura dico grazie Redentore nostro per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che hai patito, ti ringrazio in nome di tutte le creature, nella memoria di ogni creatura tengo tutta l'opera della redenzione. Gesù la mia volontà sferdila nella tua, dammi la tua per vivere. Abbiamo iniziato questo atto preventivo, prima di iniziare il nostro giro nella creazione stavamo rinnovando il nostro atto di fusione nella divina volontà, così siamo sicuri, sigillati, in un modo talmente sicuro che è impossibile per non uscire dal divin volere. Dovremmo dire con spiegamento di voce, con una volontà potente, voglio uscire dalla divina volontà, qualcuno di voi vuole questo? No. Impossibile, per cui non è assolutamente, di qui non si esce, Gesù dice di qua non si esce. Perché ci pensavo a tirerci dentro, cioè non andiamo. Benissimo, allora continuiamo l'atto preventivo di fondere le potenze della nostra anima, l'intelletto, la memoria, la volontà, nel intelletto memoria e volontà di Gesù. Questo è l'unico modo per entrare nella divina volontà, passare attraverso l'umanità di Gesù. Allora, abbiamo compiuto anche per voi e con voi la fusione del nostro intelletto e della nostra memoria. Adesso fondiamo la nostra volontà nella volontà di Gesù. E siccome in Gesù la volontà umana è fusa nella divina e questa volontà abbraccia tutte le volontà umane, essendo dentro la volontà divina di Gesù, siamo in comunicazione con ogni volontà di creatura. Al di fuori della divina volontà, questa opera incredibile di poter viaggiare invisibilmente ed entrare in ogni creatura in modo reale, non la possiamo fare, sarebbe una più intenzione. Come dire, voglio stare nel tuo pensiero, voglio stare in autonomo. Impossibile, però se ci mettiamo dentro Gesù, se noi lo potessimo vedere, resteremmo estasiati, vedremmo la versione gloriosa dei nostri capelli come dei raggi di luce che ci mettono in comunicazione con ogni creatura. Allora, prendiamo quest'autostrada di luce ed entriamo con la nostra volontà nella volontà di ogni creatura. E diciamo, nella volontà di ogni creatura vogliamo fondere tutte le volontà umane nella tua divina volontà, Gesù. E così come abbiamo adorato il Padre per l'opera della creazione, ringraziato il Figlio per l'opera della pensione, così vogliamo lodare, amare, invocare lo Spirito Santo nell'opera di santificazione del Terzo Fiat. Che tutte le volontà umane possano essere fuse e santificate nella divina volontà. E ancora fondiamo la nostra vista e i nostri occhi in quella di Gesù, perché i nostri occhi, quelli di tutte le creature, siano animati dalla luce interiore, che è la comprensione delle verità, e la luce esteriore, l'esterna del sole della divina volontà. E possiamo guardare, vedere le cose, Gesù, come le vedi tu? Vedere le cose secondo la realtà, la realtà divina, non secondo l'occhio umano, l'occhio malato, che sia mio, pepresbite, quello che sia. Ecco, dacci la tua vista divina per farci vedere, soprattutto oggi, il creato, come lo vedi tu Gesù. Entrare dentro le cose create e scoprire gli atti della divina volontà che stanno nascoste in queste cose create. Solo tu ci puoi dare questa vista e questa comprensione divina. E lo vogliamo fare in nome di tutte le creature. Fondiamo il nostro udito nel tuo. E ti chiediamo, Gesù, che ogni cosa che sentiamo dentro e fuori di noi sia la voce continua che chiama sempre ad amarci. Ogni suono ci riporti sempre al suono della tua voce e ci faccia comprendere ed ascoltare le tue verità. Questo lo facciamo nell'udito di ogni creatura. E così pure la parola. La parola che sia figlia legittima di te, parola del padre, verbo del padre. Fa che ogni parola che proferiamo, che ascoltiamo oggi, sia una parola piena di vita divina. Sia una parola che ci riempi di comprensione, di sapienza, di pace, di gioia, di semplicità, di tutte le qualità del tuo divino volere. E vogliamo riparare a tante parole inutili, a tante parole di carità non dette, a tante parole di scienze umane che riempiono la testa di cose inutili. Dacci l'essenziale, la conoscenza delle verità del tuo divino volere. Lo chiediamo in nome di tutti. E poi continuiamo a fonderci nell'operare delle nostre mani, che sia il lavorare, lo scrivere, il gestire, che tutto sia fuso nell'atto del lavorare, del gestire, di Gesù stesso. E così in ogni mano, in ogni opera di creatura. Lo stesso per i piedi, Gesù. Quante volte ti ho fatto avanti e dietro, per la Palestina, la Decapoli, la Galilea, la Giurea, per portare le verità del Padre Celeste. E così pure noi. Ci vogliamo fare passo di ogni passo di creatura. E dove la creatura sta per cadere nell'abisso, noi la vogliamo fermare. Dove è stanca, le vogliamo dare vigore. Dove sta camminando nella tua via, vogliamo dare l'entusiasmo. Perché tutti possono essere apostoli che portano la tua parola e la tua divina volontà. E vogliamo ancora fonderci in questi atti che noi non controlliamo, non sono controllati dalla nostra volontà. Sono tre atti che ci riportano alla presenza della Trinità in noi. Il palpito, il respiro e la circolazione del sangue. Fondiamo il nostro palpito nel tuo, Gesù. E insieme con te, che sei palpito di ogni creatura, ci costituiamo palpito di ogni creatura. Ad ogni palpito diciamo ti amo, Gesù. Ogni palpito sia atto di amore profondo. Ci fondiamo nel tuo respiro, Gesù. E vogliamo ricevere quell'alito originario che il Padre infuse nella prima creatura, infondendo l'anima e il dono della divina volontà. E costituendoci il respiro di ogni creatura, vogliamo inspirare te ed espirare te. Internalizzare te, Dio, e darlo a tutte le creature. Ed ogni respiro sia il respiro di adorazione profonda. Più profondo lo facciamo, questo respiro, è più profondo la nostra adorazione. E questo lo facciamo nei respiro, nei polmoni di ogni creatura. E ancora vogliamo fonderci nella circolazione del sangue. E vogliamo costituirci sangue nel sangue di ogni creatura che porti la gloria, la circolazione della gloria perenne. E ci ti chiediamo, Gesù, di purificare il nostro sangue naturale, per la salute del corpo, e spirituale, il sangue della divina volontà. Che sia sangue puro, sangue fresco, sangue che ci porta alla vitalità e la gioia dei figli del divin volere. Potremmo continuare quest'atto di fusione in eterno, ma in effetti questo atto continuerà in eterno perché non si può fermare il fatto nella divina volontà. E allora adesso, diciamo Gesù, siamo tutti fusi in te e compiamo questo atto in nome di tutte le creature. Ed oggi ti vogliamo osannare come re del regno della divina volontà e come meglio potremmo voler farlo se non coinvolgendo tutta la creazione, tutto il creato. La creazione che poverina sembra morire con dolori di parto. Perché? Perché non può compiere lo scopo per cui è stata creata. È come una madre che vuole partorire il figlio e non riesce a dare la luce. Allora immaginiamo che la creazione, ogni cosa creata, contiene delle cose che sono per noi. Grazia, conoscenza, cibo spirituale, ben, felicità, virtù. Queste cose sono depositate nelle cose create, però fino adesso noi non le abbiamo potute ricevere. Ecco, la creazione la guardiamo oppure l'abbiamo guardata in passato e vediamo, ah sì, che bel cielo, che bel mare, seppure l'abbiamo considerato. Abbiamo a volte considerato, sì, questo l'ha fatto Dio, ma in realtà vogliamo andare più dentro, non soltanto nella contemplazione e nel ringraziare Dio per aver creato queste cose, ma entrare e prendere l'atto di Dio che è nascosto e presente in ogni cosa creata. E insieme a quest'atto vogliamo dare gloria a Dio. E non soltanto questo, ce lo vogliamo mangiare questo atto, vogliamo farlo nostro, così dentro di noi diventiamo l'immagine della creazione, così Dio nel guardare ciascuno di noi oggi dirà, guarda, non le manca niente a sta creatura, il cielo ce l'ha, il sole ce l'ha, le stelle ce l'ha, è un'opera completa, non le manca niente, potrà dire come a Maria Santissima, è un'opera completa. Questo lo possiamo fare soltanto se noi andiamo a prendere questi atti, se loro non si sentono visitati, come si fanno a darsi a noi? Allora, Luisa, era questa l'attività che faceva Luisa, Luisa non è che discutesse sulle verità, se qualcuno andava a visitare, Luisa faceva quello che la poteva riempire sempre e costantemente di queste verità. Man mano che andiamo a leggere i dolumi, i primi tre, il primo paragrafetto, io stavo facendo il mio giro, allora abituiamoci ad avere questa attitudine di Luisa. Ecco, tra l'altro, un modo semplice con cui possiamo internalizzare, possiamo abituarci ad avere questa attività di girare negli atti della divina volontà, che tra l'altro ci impediscono di pensare a noi stessi, ed è un grande dono, è quello di incorporare questi atti anche nella recitazione della preghiera del Santo Rosario. Sentiamo nostra Madre Santissima che cosa ci dice. Come la sovrana Signora vinse il suo creatore e in anellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione. Questi dati scendi Messia. Così la corona dolce potente del suo rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità, di conquistare il regno del Fiat divino per farlo venire in mezzo alle creature. Allora, cominciamo a vedere, questo è un esempio, una possibilità che ci dà la nostra Madre Santissima di utilizzare il rosario non soltanto veramente come strumento di devozione, come qualcosa di inizio fatto, basta. Utilizziamolo anche per fare i nostri giri nella divina volontà. Ci sarà molto più facile perché abbiamo l'aiuto potente della nostra Madre Santissima e abbiamo anche una catena naturale a cui ci possiamo aggrappare ed ogni grano è un atto. Allora, questo giro nella creazione in cui faremo dieci atti sarebbe una decada di rosario, il mistero trionfante della creazione. In questo atto trionfante della creazione ti glorifichiamo Santissima Trinca in tutta la creazione. Allora, con ogni Ave Maria possiamo dire faremo una pausa e contempleremo e faremo quest'atto nella divina volontà. Se poi domani, dopo domani, tra qualche giorno noi vogliamo iniziare a incorporare questi atti nel nostro rosario, vedremo che sarà tanto più facile per noi fare i giri nella divina volontà. Sarà molto più facile eseguire questa catena. Innanzitutto vediamo un pochettino perché è importante conoscere e adorare la divina volontà in tutta la creazione. Questo è quello che fece Gesù in ogni suo atto nei confronti della divinità. In ogni cosa creata Dio metteva una relazione, un canale di grazie, un amore speciale tra la Maestà Suprema e la Creatura. Questo è il volume 12, 20 febbraio 1919. Figlia mia, entra in me nella mia divinità e corri nell'eterna mia volontà e vi troverai la potenza creatrice come in atto di mettere fuori tutta la macchina dell'universo. In ogni cosa che io creavo mettevo una relazione, un canale di grazie, un amore speciale tra la Maestà Suprema e la Creatura. Poi avremo tutte le copie di questo. Senz'altro il passo ancora è il volume 12, 20 febbraio del 1919. Allora ogni cosa creata veramente contiene delle cose speciali che solo lì possiamo andare a trovare, un nutrimento per la nostra anima che dobbiamo mangiare, dobbiamo andarcelo a prendere. Però la Creatura non doveva far conto di queste relazioni, di queste grazie, di questo amore, sicché avrebbe sospeso la creazione non riconosciuta ed apprezzata. Ma il Padre nel vedere la mia umanità, che tanto bene doveva apprezzare e che per ogni cosa creata aveva avuto le sue relazioni con l'Eterno, riconoscerlo, amarlo, non solo per sé ma per tutta l'umana famiglia, non guardò al torto degli altri figli e con sommo contento distese il cielo tappezzandolo di stelle, sapendo che quelle stelle dovevano essere tante svariate relazioni, grazie senza numero, fiumi d'amore, che dovevano correre tra la mia umanità e l'Ente Supremo. E così per ogni cosa creata. Quindi questo lavoro l'ha fatto Gesù prima di tutti noi. Immaginiamo per esempio Gesù quando quante camminate si è fatto, miglia e miglia, da un paese all'altro, mica la viaggiava in carrozza. Non si può dire che i tre anni della vita pubblica di Gesù il 75% era camminare da una parte all'altra. E poi lui andava a una città, parlava, andava a ospitare una casa e la sera istruiva i suoi apostoli, ripeteva le parabole, le spiegava, la notte dormivano ma dobbiamo raggiungere un altro posto, dalla Giudea alla Galilea e poi in Samaria e poi giù e poi di là e poi di là. E ripercorreva magari il giro di 35 mila, ma quante volte se l'è fatto? Allora magari durante queste camminate nei paesaggi bellissimi dei monti dell'Ermon, la valle del Giordano, i prati della Galilea, le pianure feconde, i monti della Giudea. È un paesaggio stupendo. Gli apostoli magari stavano lì ancora a discutere che era più grande tra loro, a litigare, a dire a Gesù ma guarda quello, ma manda gli fulmini su questi che non ci hanno accolto e guarda sui farisei, adesso li incontriamo ma li faccio vedere io. E Gesù un po' li istruiva, un po' si estragnava, cinque o sei passi davanti e lo vedevano raccolto prima. Calava la testa, poi guardava e quando guardava il cielo si illuminava, come per dire, ma cosa vede Gesù che noi non vediamo? E adorava, adorava, parlava con il Padre, adorava il Padre in tutta la creazione, scopriva la divina volontà, la vedeva, era in comunicazione con tutte le cose create, con il piccolo fiorellino, lo guardavano ammirare i fiori, ma guarda sembra proprio un bambino, ha questi gusti così, anche le formiche, gli piace giocare con le formichine a Gesù, con le coccinelle, perché lui vedeva l'amore, sentiva l'amore del Padre in ogni cosa creata, come il figlio che si sentiva amato dal Padre, attraverso tutte le cose create. Il lavoro di Gesù è stato un lavoro costante, di giro continuo negli atti della divina volontà e nella creazione. Non soltanto quando nella vita pubblica, anche nella sua vita privata, quante volte andavano i prati a cogliere i fiori, anche lì fuori della casa, stava lì a giocare nel giardino, magari a piangere, stava in contatto in relazione con tutto il creato. E diciamo Gesù, quello che tu hai fatto per tutti noi che sta sosteso in te, adesso in te lo veniamo a prendere e lo facciamo pure noi. Tra l'altro, dice Gesù, volume 18, 9 agosto 1925, figlia mia, tu devi sapere che questo modo di pregare il giro nella creazione, cioè di ricambiare Dio in amore per tutte le cose da Lui create, è un diritto divino ed entra nel primo dovere della creatura. Mamma mia, è un diritto divino, prima di ogni altra cosa, è un dovere sacrosanto per l'anima che vive nella divina volontà, ha una responsabilità grande, vive in questo volere divino dove ci sono tutti questi atti, deve ricambiare lei per tutte le creature. Allora è un nostro dovere, non è un optional, dice allora io sono un figlio del divino volere, faccio il mio atto di fusione, chiamo Gesù a camminare in me, a mangiare in me, a fare tutto quello che vuole e poi se ci scappano, faccio anche un giro nella... Ecco, no, abituiamoci a pensare che abbiamo anche questo sacrosanto dovere di andare, anche una visitina, un balbettio semplice, un piccolo diamo nella volontà divina in ogni cosa create. Più spesso lo facciamo, più lo comprendiamo e più ne prendiamo gusto. Non ricambiare Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode che fa la creatura a Dio, è un usurpare i suoi doni senza neppure riconoscerli da dove vengono e chi tanto l'ha amato. Perciò è il primo dovere della creatura ed è tanto indispensabile questo dovere, è importante, che colei che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra Madre Santissima, la nostra difesa, il nostro interesse, non faceva altro che girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create, ed imprimere il suo ricambio d'amore, di gloria, di ringraziamento per tutti, a nome di tutte le umane generazioni. E questo è Maria Santissima. La sua vita non fu altro che un girare continuo negli atti della divina volontà, nella creazione per esempio. Infatti se leggiamo quel passo sull'Immacolato Concepimento nel volume 15 dicembre 8 del 1922, dice, ma lo sai figlia mia qual è stato il primo atto di Maria Santissima appena uscita alla luce, appena è stata partorita, purissima dal grembo di Sant'Anna? Con il suo balbettio di neonata, insieme agli angeli e ai santi, è entrata in tutte le cose create, ha fatto il primo giro di tutta la creazione e ha detto il suo grazie in nome di tutte le creature. Era Dio che dopo tanti secoli erano passati da quando Adamo innocente faceva questi bellissimi giri in tutto il creato. Finalmente si poteva godere i suoi innocenti trastulli. E nostra Madre Santissima non ha dato tempo al tempo, appena uscita dal grembo di Sant'Anna, ha fatto il suo primo giro e ha detto grazie. E questo grazie si ripercuoteva e faceva eco in ogni cosa creata. Dio cercavo, dice Luisa, per quanto potevo, di girare per tutte le cose create, per dare al mio Dio il ricambio dell'amore, della gloria, della gratitudine per tutto ciò che aveva fatto nella creazione. Mi pareva di vedere in tutte le cose create il ricambio d'amore della mia imperatrice mamma e del mio amato Gesù. Ecco allora, a maggior ragione chiediamo l'aiuto della mamma che ci guida. E se non sentiamo questa passione, quest'amore, se ci sentiamo così piccoli, balbettanti, ignoranti, è ancora meglio. Immagina se ci sentissimo arrivati. Questo non è il posto giusto. Qui più di due giorni, oppure siamo tutti neonati. Se ci sentiamo neonati, benvenuti, grazie a Dio. E quindi in questo ambiente divino, senza paura, con tanta semplicità, con tanta gratitudine, andiamo e compriamo questo giro nella creazione, aiutati dalla nostra mamma. Allora adesso ci muoviamo in un modo molto semplice, siccome questo giro lo potremmo fare in tanti modi diversi. Allora, muoviamoci in due direzioni. La prima direzione, andiamo a vedere innanzitutto quali sono, facciamo una carrellata delle cose create. Le cose create del cielo, il sole, il mare. E vediamo, cerchiamo di scoprire qual è l'atto della divina volontà in queste cose create. E qual è lo scopolo? Noi potremmo fare questo giro in tanti modi diversi. Scegliamo, per esempio, questo modo, questa impostazione. Siccome l'uomo è la creatura completa, che deve inglobare, contiene tutta la creazione. Se pensiamo, il regno vegetale è un regno limitato, dove ci sono le perfezioni del regno vegetale. Il regno della vegetazione e le piante, secondo leggi della natura, secondo le leggi della fotosintesi, prendono il nutrimento dalla terra, fioriscono. Anzi, prima del regno vegetale c'è il regno animale, il regno minerale. Nel regno minerale non c'è neanche la vita vegetativa. Il regno vegetale contiene il regno minerale, perché è costituito da tutte quelle sostanze della chimica, normali, l'acqua, l'ossigeno, l'idrogeno. E in più c'è la vita, la vita cresce, il seme che fiorisce. Quindi vediamo che ogni regno della creazione, regno superiore, include quello inferiore. Quindi ci sono diversi gradi di perfezione. Il regno minerale è perfetto in sé perché compie lo scopo per cui è stato creato. Il regno vegetale ha un grado di perfezione superiore ed è perfetto in sé perché le piante fanno esattamente ciò che Dio le ha create per fare. E include anche il regno vegetale, che c'è poi il regno animale. Il regno animale, ovviamente, gli animali di che cosa sono fatti? Se andiamo a vedere la composizione delle cellule è fatta proprio di minerali, carbonio, potassio, magnesio, tutto. In più, non soltanto c'è la vita vegetativa della crescita e lo sviluppo delle cellule, così come nelle piante, c'è anche il moto negli animali, c'è l'istinto, ci sono le funzioni digestive, ci sono degli atti di istinto, addirittura nell'animale c'è l'istinto amoroso, l'istinto della difesa, c'è una perfezione superiore nel regno animale che include il regno vegetale e il regno minerale. Adesso l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio, include, racchiede in sé queste perfezioni inferiori ed è una perfezione ancora superiore. Dire che l'uomo è un animale razionale in realtà non è corretto, l'uomo non è un animale. L'uomo ha una natura diversa, come dire, se noi dicessimo che l'uomo è un animale razionale, è come se dicessimo che un cactus è una pietra con le spine, oppure che, niente, ci sono delle divisioni e dei compartimenti, una pietra non si può trasformare in una pianta, così come un fiore non si può trasformare in una scimmia, così come la scimmia non si trasforma in uomo. Perché? Perché ci sono delle perfezioni aggiuntive che o le dà Dio oppure le trasformazioni, le mutazioni, le evoluzioni. Allora, l'uomo non è un animale razionale perché è di natura umana, non di natura animale, anche se contiene in modo ancora più perfetto tutte le perfezioni del regno animale, vegetale e minerale. Ha una cosa in più che non può essere sviluppata da sola. Ha una natura anche materiale e spirituale, un'anima che gli è stata infusa da Dio, che gli animali non hanno. Quest'anima è eterna, non morirà mai. L'intelletto, la memoria, la volontà, la libera volontà intelligente è la cosa più bella che Dio ha creato. La volontà umana è la cosa più bella che Dio ha creato. E l'ha creata con lo scopo di vivere fusa nella divina e di ricevere l'atto operante della divina per compiere dei prodigi delle nuove creazioni. La volontà umana è la cosa più bella che Dio ha creato. Quando si separa dalla divina e diventa una scheggia impazzita, diventa la cosa più pericolosa che Dio ha creato. Addirittura ammazza Dio. Allora, vediamo quindi, andiamo ad esaminare tutte queste cose create. Perché? Con l'unico scopo di dire, vedi, allora io contengo tutta la creazione, perché la perfezione della natura umana con cui sono stata creata contiene anche tutto il creato. Questo creato, queste perfezioni minerale, animale, vegetale e tutte le cose create nei diversi regni della natura, sono state create per me. Sono state create come strumenti per comunicarmi delle cose e delle grazie, delle conoscenze che Dio vuole darmi. Allora io devo includere in me tutta quanta la creazione. E quindi il giro lo faremo in modo tale che noi entreremo nell'atto di cielo e poi chiederemo a Gesù di mettere questo atto di cielo dentro di noi. Così come passiamo da una cosa all'altra, noi le incorporiamo. Alla fine di questo giro avremo tutta la creazione all'interno di noi. E poi lo dobbiamo continuare a coltivare. Allora questa. Poi alla fine, quando abbiamo fatto una breve carrellata delle cose create, siccome noi agiamo nello spazio e nel tempo, non è che possiamo fare diecimila cose non temporaneamente. Allora andiamo a vedere per ciascuna cosa creata. Quali sono gli atti che possiamo fare noi in ciascuna cosa creata? Luisa faceva il suo giro in tanti milioni di modi diversi. Non è che noi possiamo fare un giro, anche se noi mettiamo un semplice diamo, è già un giro. Se noi diciamo Gesù viene a formare la creazione un me, questo è un giro. Se facciamo compagnia è un altro giro ad ogni cosa creata. Vediamo allora la varietà, abbiamo assoluta libertà, creatività, abbiamo una potenza infinita. Noi ci possiamo fare quello che vogliamo con la creazione. Allora iniziamo ad assumere questa dimestichezza, così che quando entriamo negli atti della creazione ci sentiremo a casa nostra, ci sentiremo che veramente possiamo consentire alle cose create di compiere il loro scopo, che è quello di servirci. E quindi noi le possiamo dominare, non perché diciamo alla mosca vai via quella se ne va, no. Il dominare le cose create è veramente conoscerle nella loro sostanza, prenderle dentro di noi e ricevere tutto quello che loro contengono, di beni divini. Perché nell'Antico Testamento il dominare, il possedere la sostanza di un essere e dominare quest'essere si esprime con il dare il nome. Infatti Dio quando creò tutte le cose create gli fece fare una carrellata davanti ad Adamo e adesso dagli un nome. E lui dice cavallo. Allora dice bure, cielo. Allora questo dare il nome ad ogni cosa creata, vuol dire io ti do un nome, ti posseggo, ti domino, o posseggo la tua essenza, perché il nome è l'essenza. Gesù vuol dire salvatore, Yeshua, salvatore il Messia, Yeshua Nizaret, come si dice in aramaico, ho sentito come è bello poter sentire il nome di Gesù, come si pronuncia. Ed ogni cosa creata, nel dare il nome ad ogni cosa creata, Adamo la possedeva, vuol dire ne prendeva il dominio, l'essenza di quella cosa creata, cioè riceveva l'atto di Dio, quella speciale amore, quella speciale qualità, quello speciale attributo divino contenuto in quella cosa creata, lo riceveva e lo faceva suo. E quindi quella cosa creata, essendo creata per Adamo, diceva, ah, poteva partorire, e dice, ah, questo che ho contenuto per me, te lo do, tieni è tuo, tu vieni in me, metti il mio ti amo, io ti do quello che ho. Allora questo per noi vuol dire dominare il creato, dargli il nome, fiore, io ti posseggo, posseggo la sostanza di questo fiore, vuol dire che in questo fiore c'è quell'atto di dolcezza, di pace, di semplicità, di creatività, di di gaiezza infantile, che è uno degli attributi di Dio. Allora questo atto, chiamato, non ti scusco, chiamato Margherita, io lo faccio mio, allora io domino la Margherita, perché la Margherita si lascia dominare, si lascia prendere da me. La Margherita è un atto di Dio, chiamato Margherita, che ha nello spazio e nel tempo quella conformazione naturale che ci espira ai nostri sensi a dire, ah, guarda quanto è carino, perché noi con le potenze dell'anima, tramite la nostra vista, il nostro dito, il nostro olfatto, possiamo percepire le qualità e gli attributi di Dio e possiamo penetrare nell'atto che è contenuto, che è di natura spirituale. Ecco. Allora, andiamo avanti, oh, se no, quando è che iniziamo a dire. Senti, in altri programmi possiamo dire, prendere per l'atto, l'amore speciale che Dio ha messo in ogni cosa. Certo, 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 certo. L'amore speciale. Certo. Non solo l'amore ma anche altre qualità. Bravissimo, bravissimo. Non solo l'amore, il colore, la perfezione, di Dio. Ecco. Allora, se noi pensiamo, se noi pensiamo, adesso, diciamolo chiaramente, questo è un modo potente di pregare, perché noi diciamo a Gesù, voglio essere più umile, voglio essere più patente. Dove lo troviamo queste virtù? Dove troviamo l'atto vivente, operante come atto divino? È sparso in tutto il creato. Allora, fare il giro della creazione vuol dire acquistare. Se noi entriamo in questo atto, lo facciamo nostro, senza accorgerne, accorgercene, noi acquistiamo questi attributi, queste qualità, questo amore divino contenuta, questa grazia, questa conoscenza, che è contenuta nelle cose create. Allora, per questo nostra Madre Santissima dice, quello che non siete riusciti a fare in 40 anni, 50 anni della vostra vita, ma la mia volontà ve lo fa fare in un giorno. Allora, se noi andiamo a visitare veramente la fonte e la sede degli attributi divini che ci vogliono nutrire, vogliono nutrire la santità della divina volontà in noi, andiamocela a prendere. Dove la troviamo? Nel creato. Allora, questo è un modo potente di creare. Ci rendiamo conto come a prima visata, non è un saltellare romantico, no, no, è dire Gesù, tu mi stai trasformando, perché io mi prendo i tuoi atti divini che tu hai depositato in ogni cosa creata, me li prendo, sono miei. E questo appropriarmene mi trasforma, perché io mi mangio un cibo divino, spirituale, che trasforma ogni singola cellula, ma non solo dell'anima mia, ma pure del corpo. Allora, il giro nella creazione, come il giro dell'anima nella divina volontà, è il modo più potente di creare, il modo più trasformante per santificarci. Allora, ci rendiamo conto come la santità del vivere nella divina volontà. Allora, diciamo, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Allora, chiederci che cosa devo fare in questa... Allora, il modo più potente per vivere in volere è andarci a prendere gli atti, andarci a ripetere gli atti. Questi ci trasformano. Questi ci danno la vista divina, l'intelletto divino. Ci fanno vedere le cose, ci fanno vedere le cose come le vedeva Gesù quando camminava. Ci fanno sentire palpitante l'amore di Dio come lo... Certo, Adamo, prima del peccato, non agiva per fede. Lui aveva la vista divina e vedeva, toccava, per questo lui era in estasi continua. se noi... Mostra Maria Santissima, se voi sapeste quanto vi amo, figlioli miei, morireste l'amore di gioia, di gioia, di felicità, di gratitudine. Così pure Adamo era completamente cattato, catturato, cattivato, accattivato dall'amore di Dio che lui sentiva, da queste nuove conoscenze. Il fatto che Dio passeggiava con lui al fresco della sera e gli dava le nuove conoscenze e il nuovo... Allora, Adamo girava nel giardino terrestre e dovunque respirava Dio, vedeva Dio, sentiva la voce di Dio, sentiva il palpito di Dio, sentiva la freschezza di Dio e sentiva l'abbraccio di Dio, il bacio di Dio, l'amore di... Mamma mia, quanto era felice! E come poteva distrarsi lui? Era affogato di grazia, di amore, di conoscenza. Doveva fare un'operazione di fede? No, no, no. Lui era... Anche lui si ha spesso queste volte all'inizio, dice Gesù, all'inizio nel volume 12, quando comincia questi atti nella creazione, Gesù mi ha portato insieme con Senni al Dio in volere e io vedevo la Divina Maestà in atto di mettere fuori tutta la macchina dell'universo e vedevo tutti questi canali di grazia, di amore, di conoscenza, di santità, presenti in ogni cosa creata. Lui sa pure, quando veniva chiamata in questo modo così reale nella Divina Volontà, non operava per fede. Altre volte però Luisa si trovava a fare il suo giro nella Divina Volontà, così pure com'è, diciamo lo facciamo noi, diceva quando Gesù, quando tu eri con me, io lo facevo bene sto giro. Mi trovavo in questi atti, vedevo tutto, capivo tutto, sentivo toccata dal tuo atto nella creazione. Adesso mi sembra che dico una filastrocca a memoria. E Gesù dice no, il tuo iniziare a fare il giro è farlo. La tua pena, quasi per non riuscire a completarlo, è per me completarlo. Allora se noi restiamo perseveranti e lo iniziamo questo giro, lo facciamo, anche se dobbiamo compierlo per fede, comunque gli effetti sono ancora più potenti, senza che neanche ce ne accorgiamo. Allora, ecco, questo per esempio è una serie di cose create, questa è una cosa per bambini, insomma, ecco, la varietà delle cose create, le stelle, la luna, il fulmine, il sole, la terra, gli alberi, le piante, gli animali, la farfallina, il leone, l'uomo, da gradi di perfezione inferiore a gradi di perfezione superiore. Ogni cosa creata è perfetta, perché compie lo scopo per cui è stata creata. L'uomo fuori dalla Divina volontà è di gran lunga più in perfetto, non strassi o in confronto alle cose, perché non compie lo scopo per cui è stato creato. Allora, chiediamo alle cose create, cosa create, quanto siete belle, voi state nell'ordine della creazione, insegnateci, insegnateci a fare la volontà di Dio come la fate voi. Luisa, per esempio, nel volume 1, ancora non sapeva niente di tutto questo, quando però cercava Gesù, c'era la torre disperata, lì entrava, diceva, andava e diceva, cielo sono le stelle, parlatemi di lui, voi state dove sta lui, voi vi trovate nell'ordine del creato, voi lo vedete, lo sentite, lui vi mantiene a vostra vita, dov'è Gesù? Istintivamente già si rivolgeva a Gesù per cercarlo nelle cose create. Allora, quando noi ci manca Gesù e non lo sentiamo, ci sentiamo aridi, ci sentiamo fredici, andiamola a chiamare nel modo più potente che lui non si potrà negare. Io sai che cos'è? Io mi faccio aiutare dagli atti della divina volontà, andiamo a fare una sorpresa. Sole, cielo, terra, venite, venite, come chiamiamo Gesù? Lui, c'ha le mani legate. Allora, utilizziamo quelle strategie che pure Luisa, la potenza dell'anima nella divina volontà, che rende Dio un piccolo ucciolino, circuito d'amore, indifeso quasi, non si può sottrarre. Come ha fatto con Maria Santissima, quando lei ha detto scendi, verbo, incarnati, Dio non ha potuto resistere e si è incarnato. Profeti, patriarchi, Mosè e compagnia bella per migliori e migliori avevano pregato per l'avvento del Messia. E' arrivata Maria Santissima, con i suoi giri continui nella creazione, con il suo ingaggiare gli atti della divina volontà nella creazione. Quando raggiunse la pienezza della grazia, quando in sé aveva fatto talmente tanti giri, che aveva chiamato la divina volontà a venire a regnare sulla terra, a portare il Messia sulla terra, utilizzando gli atti in tutta la creazione, il padre ha detto, no, non possiamo fare più niente, va bene, sì, 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 scende il Messia, si fa fiat mili. Ecco, e quindi per ogni cosa creata poi andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Il nostro piccolo ti amo, il nostro ti faccio compagnia, il nostro se ti faccio compagnia ti racchiudo dentro di me, se ti racchiudo dentro di me, oh, tipo, se sei mio, se sei mio io ti faccio fare quello che voglio, vengo al tuo regno. Il cielo, il cielo ha perso. Allora, posso dire una cosa? No, io non mi faccio gli atti, però mi fa, cioè ci sono troppe cose che io non riesco a stare indietro, capito, perché non, come pure gli atti di Gesù, sì, mi ricordo le cose principali, però tutte le cose io non me le ricordo. Nessuno se le può ricordare, allora, proprio per questo stiamo facendo questo giro. Allora, se sembra che prendiamo tante cose, se sembra che prendiamo tante cose, in realtà noi non stiamo prendendo niente, però il bello della divina volontà è che in qualunque posto ci mettiamo, anche se un'arma di centro nella divina volontà, Gesù, diamo nel cielo, vieni divina volontà, vieni divina volontà nel cielo, forma tu il cielo in me, tu hai fatto tutto, Anna, tutto, 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 il fatto è completo, ti trovi nel cielo e siccome la divina volontà è la stessa nel cielo, è la stessa volontà, è la stessa volontà, allora, facciamo un esempio, Anna, ciascuno di noi ha una volontà umana, va bene? Allora, se io potessi con un mio trucco, una mia magia, un mio potere speciale, entrare nella volontà di ciascuno di voi, io potrei dire, io ho le mani concerte, sto indossando una giacca blu, io sono seduta e adesso sto sprizzando gli occhi, sto avendo quel pensiero che stai avendo tu, sto versando anche delle lacrime e tra l'altro anche fame e voglio fare questo. Allora, tutti gli atti interni ed esterni, nascosti o visibili che voi stiate facendo, io li sto facendo, sono atti miei, sono atti miei, c'è completa identificazione dei nostri, quello che non è possibile tra volontà umane, perché sono volontà separate, è possibile nella divina volontà, allora quando io mi trovo in un atto della divina volontà, siccome è volontà unica, io sto facendo tutti gli altri atti, niente è escluso, un'unità tutti, tutti, li fai tutti contemporaneamente, allora qual è, quale deve essere il mio unico desiderio e dico, io entro nella divina volontà, più ci sentiamo, immagina Anna se tu dicessi, guarda io sono così brava nel mio giro che riesco a fare tutti gli atti contemporaneamente, poi c'è una tale scioltezza di linguaggio, una tale padronanza, una tale intelligenza, io il creato te lo prendo così proprio, allora se una creatura diciamo ha questa attitudine, allora fa orrore alle cose create, allora se noi invece ci mettiamo al nostro posto, che è quello di dire ma noi siamo minuscoli, siamo niente, però con la potenza di una volontà divina che regna in me, se io col mio balbettio principiante commettendo, guarda io ho le potenze della mia anima, l'intelletto poco sviluppato come ce l'ho, la memoria, ah inizia pure quella a fare acqua, la volontà a volte vacilla, però con tutto il cuore mi metto nella volontà di Dio a fare questo giro e ci provo anche facendo il mio piccolo sforzetto, questa è la cosa più grande, è la cosa più grande e potente che racchiude tutti i giri fatti insieme, questo è quello che faceva Luisa, Luisa mai si sentiva arrivata, Luisa ci aveva meno della prima elementare, per questo Dio ci ha messo Luisa come modello della divina volontà, per questo Gesù l'ha messa inchiodata a letto per 40 anni, così a noi non ci viene il sospetto, la tentazione di dire io devo essere intelligente, devo essere di un ordine religioso, devo poter viaggiare per conoscere le cose, devo avere contatto con le persone, no, 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 non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno proprio di quello che c'hai tu in questo momento, del nostro sentirci nulla, tu c'hai questo in questo momento, hai tutto quello di cui hai bisogno, tutto quello di cui hai bisogno, tutto, tutto, perché la divina volontà può regnare nel nulla, infatti manca a farlo apposta, l'atto di cielo è proprio un atto della divina volontà in cui noi entriamo in questo atto, l'atto della immensità, l'atto del vuoto, vuoto completo, vuoto completo, il cielo in sé è immenso, se noi guardiamo, se noi potessimo guardare nella nostra anima, il nostro corpo è limitato nel tempo e nello spazio, se noi potessimo guardare all'interno della nostra anima che è fatta niente po' di meno che accogliere un Dio infinito, se noi potessimo vedere l'abisso, l'immensità che c'è qui nella nostra anima, altro che galassie, altro che universi, su un buchetto nero a confronto, abbiamo un'immensità qui dentro, noi siamo stati grati per Dio, per accogliere il Dio vivente, quando riceviamo Gesù, Gesù non si può comunicare ad un animale, che non lo può contenere, Gesù ha bisogno dell'infinità, e l'infinità è l'anima, l'anima è infinita, Gesù si comunica perché in quest'anima è infinita, ed ha una potenzialità infinita, nel senso che si espande ancora di più, allora la capacità che abbiamo dentro di noi, altro che prima elementare, piccolo intelletto, abbiamo un abisso dentro noi infinito, tanto che questo cielo qui, il cielo proprio naturale che vediamo, che con i telescopi vanno lì, hanno trovato un'altra galassia, questo non è un universo, e niente, è peggio, è più piccolo, niente, di uno spazietto, di un bicchiere, niente. Entriamo nell'atto dell'immensità, atto di immensità, che è contenuto nel cielo, è l'atto di Dio, che ci dà un'immagine di questo atto attraverso il cielo. Questo atto è l'atto della sospensione completa, del vuoto completo, del distacco, del distacco. Allora, quello che vogliamo fare, dice, volontà divina, tu, innanzitutto, nelle cose create, fai un sacco di cose, noi adesso ne possiamo andare a prendere una, due, per questo lo dobbiamo continuare a fare sempre, questo giro, che adesso noi stiamo prendendo proprio i granelli, i granelli, se noi continuiamo domani, dopo domani, tra due anni, tra di anni, tra cinque anni, ci rincontriamo, mamma mia, quanto più ci siamo ai occhi. Allora, diciamo, oggi che cosa possiamo vedere nella divina volontà? L'atto del cielo e l'atto del distacco. Con l'impostazione che abbiamo avuto in questo giro, di dire Gesù viene a formare il cammino delle virtù, il cammino della perfezione e della santità nell'anima mia attraverso le cose create, iniziamo a vedere qual è la prima lezione che dà Gesù a Luisa nel volume 1, distacco da tutte le creature. È come per dire, il primo atto che Gesù vuole mettere nell'anima di Luisa è l'atto di cielo, senza il vuoto non si può iniziare a mettere niente. Allora, prima di tutto, prima di essere pia, prima di essere umile, prima di essere bella, prima di essere bella spiritualmente, prima di essere santa, prima di essere... io devo essere niente, devo essere vuoto, così come era vuoto l'universo, prima che si pronunciasse il fiato. Da principio, volume 1, il Divin Maestro pose mano a sfogliare il mio cuore da tutte le creature. Io sono tutto il bello che merito di essere amato, vedi? Se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda d'intorno, cioè pensieri di creature, immaginazione, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore. Questi discorsi ti riempiono la mente di cose che a me non appartengono. Il distacco insegna a Gesù il distacco da tutte le cose, da tutte le creature. Allora, noi entriamo nella Divina Volontà, dice Divina Volontà, riconosciamo quest'atto di immensità, quest'atto di cielo, quest'atto di vuoto assoluto nel cielo, dice Divina Volontà, vieni, vieni a formare il vuoto in me, vieni, vieni a togliere queste catene dei miei attacchi alle creature, degli affetti umani, delle relazioni disordinate, del confronto con le altre creature, del pensare che è più santo di me, che è meglio di me, del pensare che fa questo gruppo della Divina Volontà piuttosto che un altro, del pensare, ah, vedi, oppure tutti gli attacchi che possiamo avere alla nostra salute, alle cose materiali. Divina Volontà, abbiamo bisogno di quest'atto di cielo, vieni a sgombrare, cioè cielo bello, cielo santo della Divina Volontà, aiuta, cioè tu sei così bello, ci dai l'idea di questo vuoto, di questo distacco, non solo di idea, tu ne sei l'atto operante, vienicelo, vieni in me a formare il canovaccio della santità del vivere nel Divino Volere. Il cielo ce l'abbiamo, io vedo cielo, io vedo cielo, 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 la Divina Volontà ci sta già trasformando, senza che non ce ne accorgiamo, mamma mia, quante catene, quante pietruzze, quanta polvere, via, 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 ah, allora, stelle, ecco, adesso che la Divina Volontà ha creato il cielo in noi, noi stiamo facendo questo giro, lo stiamo facendo proprio, questo non è un modello, un esempio, un modello attivo, un atto che stiamo facendo, più potente di questi atti non è impossibile, stiamo facendo questo giro trasformante nella Divina Volontà, in modo che tra, quando abbiamo finito, saremo eternamente diversi, saremo stati trasformati completamente, quando lo rifacciamo, saremo ancora diversi. Dopo che abbiamo il vuoto all'interno di noi, ecco, la Divina Volontà vuole come, così come nella Genesi, adesso creò il vuoto, iniziò a mettere le stelle, questi punti, si formarono queste nebulose e si formarono queste sfere, queste sfere che girano e senza toccarsi hanno delle loro traiettorie e sono raggruppate in alcune speciali costellazioni. Certe si muovono in uno spazio che sono i bambini che saltellano nel prato, alcune vanno zigzagando così, altre sembra che si scontrano e poi cambiano direzione, altri invece sembra che c'è una coda di fuoco, sono degli scapigliati con queste comete che vanno in giro, altri invece sembra che vanno pianino, pianino, tutte queste stelle nel cielo formano l'armonia delle sfere, tra di loro, tra di loro cantano insieme e fanno questa armonia, che bello, che bello questa armonia. Bella stai Gesù la sera quando i suoi se ne andavano a dormire, li copriva come un po' di paglia assinché non si raffreddassero e poi lui si metteva, e diceva, mi faccio detergere dalle stelle. Gesù aveva accumulato la vicinanza di tanta tanta sofferenza dalla vicinanza e di tanto peccato, aveva guarito nello spirito e nel corpo tante persone, tanto che i lebrosi della pelle per lui, quella lebra non era niente a confronto della lebra dell'anima con cui era stato a contatto e aveva risposto a delle domande che l'avevano messo nel tranello ancora una volta, ha visto la falsità delle persone che lo avvicinavano per interesse. Lui sudava freddo, sudava freddo la sua anima pura, 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 santa, santa, santa. Era inorridito dal peccato. E la sera quando finalmente poteva venirsi al padre, lui sentiva l'esigenza, cioè di immergersi nella purezza. E dove la trovava padre mio? Detergimi, detergimi con il tuo amore. E stava lì sotto il cielo stellato. E chi è magari a 30, 40 miglia, c'è 100 chilometri se lui stava in Giudea, sua madre stava in Galilea, Nazareth? Chi era quell'altra creatura che dal terrazzo della casetta di Nazareth stava lì ad unirsi a Gesù in quegli anni? Madre Santissima. Nazareth dormiva e lei stava lì e si riposava, si riposava. Gesù ci vogliamo unire a te in questo atto. Formano il vuoto del cielo e crea in noi adesso delle costellazioni, delle stelle. Mettici le stelle. Ecco, le stelle che cosa sono? Sono l'inizio delle virtù che Gesù vuole mettere in noi. Le virtù, le virtù stelle. Vedevo, Guisa, volume 18, 6 dicembre 1925, vedevo il cielo stellato. E il mio amabile Gesù ha ripreso il suo dire. Figlia mia, guarda il cielo, che ordine, che armonia tra le stelle. Una stella non può stare senza dell'altra. Sono tanto vincolate insieme che una sostiene l'altra. Una è la forza dell'altra. Se mai sia una sola stella si spostasse dal suo posto, ci sarebbe tale scompiglio e disordine nell'atmosfera che passerebbe pericolo che tutta andrebbe rovina, sicché tutta la bellezza del cielo sta riposta nello stare ognuna al suo posto, nell'unione comune, nella forza di comunicazione attrattiva che hanno tra di loro, che più che elettricità le tiene sostese, separate e abbinte tra di loro. La santa distanza tra le stelle. Ecco, adesso possiamo vedere le stelle, le virtù, in diversi modi diversi, così almeno inglobbiamo in noi diversi atti, diversi atti trasformanti. Vediamo innanzitutto come si possono raggruppare queste stelle. In tante costellazioni, così come c'è la costellazione di Orione, il Carro Grande, Aldebaran, le Pleiadi, l'Orsa Maggiore, sono questi gruppi, questi grappoli di stelle. Così pure le virtù sono raggruppate tra di loro. Infatti, nei volumi iniziali di Luisa, ecco, non vediamo spesse volte come dice, ecco, la pazienza genera la perseveranza finale, la giustizia, la semplicità, la verità, le mette insieme in modi quasi che noi non ce li possiamo immaginare, cioè ma che fanno insieme questi gruppi di virtù messi insieme ti danno un risultato speciale. Allora, per esempio, andiamo a vedere alcuni esempi di costellazioni virtuali. Costellazioni, gruppi di virtù, gruppi di stelle virtuali, non perché non esistono, ma perché sono di virtù. Costellazioni virtuali vuol dire gruppi di virtù messi insieme. Così come c'è praticamente le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, così Gesù mette in noi le tre stelle. Queste tre stelle insieme, questa è una costellazione che anziché chiamarla l'orsa maggiore si chiama la teologica, la teologica, ed è composta da tre stelle che si chiamano fede, speranza e carità. Allora, ma esiste veramente o nell'anima? Esiste nell'anima. No, perché non esiste. Esiste, esiste. Ancora più veramente che se ci fosse una costellazione chiamata. Cioè, volevo sapere se era una... Esiste veramente. Nessun astronomo l'ha vista, ma esiste veramente. Queste sono costellazioni spirituali. Ma perché spirituali? Ancora più vere delle costellazioni che si devono guardare col telescopio. Sono costellazioni. Dio purissimo spirito. E' l'unica. Allora, perché? Perché noi sappiamo che nelle cose create, nelle stelle, le stelle contengono degli atti di volontà divina. Allora, siccome Dio vuole creare le stelle, il cielo stellato in noi, queste stelle, le stelle che sono atti di diverse virtù, le diverse virtù con cui vuole adornare il nostro cielo. Allora, ogni stelle è una virtù. E qual è il gruppo di virtù più importante di cui abbiamo bisogno per credere in Dio, per avere la speranza ed amarlo? Le virtù teologali. Allora, in noi esiste una costellazione di stelle che si chiama costellazione teologico-teologale. La fede, la speranza e la carità. Poi, per esempio, ma queste costellazioni ce ne possiamo inventare a BGF? Voglio dire, non sono lo so. In uno dei volumi di Luisa, per esempio, nel volume 3, mi ha compito questo gruppo di virtù che Gesù mette insieme. Dice il passaporto celeste. Qual è il passaporto per avere anche la beatitudine in terra? Questo passaporto porta le tre firme. La firma dell'umiltà, della rassegnazione e dell'obbedienza. Allora, è come se Gesù mette insieme queste tre virtù, queste virtù messe insieme, formano un'altra costellazione. Allora, io voglio avere questo passaporto in me per avere la beatitudine anche in terra. Allora, in me voglio avere la rassegnazione, l'umiltà e l'obbedienza, così come interagiscono tre di loro in quel modo speciale per farmi avere questa beatitudine anche in terra. Allora, io questo la posso chiamare il passaporto celeste. Ma non è che, voglio dire, questi sono degli esempi, degli esempi di bambini da un anno. Poi uno, come in noi, l'edate di una bambina. Ma certo, certo, certo. Per dire, queste, giusto per dire che così come in cielo esistono le pleiadi, così nel cielo ancora più infinito, ancora più vero, eterno della nostra anima, perché lì ci sarà un calaclisma, prima o poi le stelle faranno cozza tra di loro, Big Ben ha detto stop e la creazione materiale avrà compiuto lo scopo per cui è stata fatta e ritornerà in Dio. Ma la nostra anima è eterna. Allora le costellazioni materiali, alla fine spariranno come delle biglie, ma le costellazioni delle virtù dell'anima, ancora più reali, sono eterne, sono eterne. Allora prendiamo spunto proprio da questi atti che vediamo di tutte queste stelline che stanno uniti tra te e dicono, ah, belle stelle, restante stelle, come siete belle tra di voi, muovete, ma non vi cozzate. Una è luce dell'altra, una è supporto dell'altra, è vero, perché ho bisogno della fede. Ma se la fede non è nutrita dalla speranza, come faccio ad avere fede? Come faccio? Io credo in Dio, ah, Dio sta lontano, ma se non spero che Dio lo posso avere anche io, che credo a fare? E più spero, ah, io lo posso possedere questo Dio, e più lo amo. Allora la carità è il nutrimento della fede e della speranza, è la sostanza della fede e della speranza. Allora queste virtù che stanno insieme, ecco, per me sono come delle stelline che devono stare sempre insieme, e le devono sempre brillare. Immagina se nel cielo della nostra anima la stella della fede si spegne, cataclisma, si spegne la stella della fede, la stella della speranza, di che cosa deve sperare? Non è niente più da sperare, cade, non ha più il suo stelle. L'amore si spegne, cataclisma, fine del mondo. No, no, no. Allora le stelle devono sempre brillare dentro di noi. Allora chiediamo a Gesù, diciamo a Gesù, così come ci stanno tante costellazioni in cielo, che io non me le so manco immaginare. Ancora di più ci sono tutte le virtù della pazienza, della fortezza, della semplicità, della verità, tutte le virtù, la santa obbedienza, la santa umiltà, che sono come tante stelline con cui tu vuoi adornare il mio cielo. Dico, vieni volontà divina, vieni a formare il cielo stellato in me. Ecco. Tra l'altro, possiamo vedere le stelle non soltanto come ogni creatura è un cielo stellato che ha tante virtù e tante stelle, ma possiamo anche pensare in una maniera un pochettino diversa, per esempio, che ogni creatura ha una stella diversa. Allora, così come dentro di noi dobbiamo avere l'armonia delle virtù, l'armonia delle virtù che sono le stelle, così se noi vediamo che, per esempio, ogni creatura ha una stella diversa, dobbiamo renderci conto che i nostri rapporti tra creature devono essere poco ispirati, devono essere modellati al rapporto che le stelle hanno tra di loro, perché questo è il nostro modello. Allora, le stelle che fanno? C'è la stella di una costellazione che dice, no, voglio prendere il posto tuo, voglio fare l'ufficio che stai facendo tu, impossibile, oppure, ecco, ti voglio toccare, boom, se una tocca l'altra, forza centrifuga, centrifuga tutti i campi elettromagnetici, succede un pasticcio. Tra le stelle c'è una luce di una che diventa luce dell'altra, la forza del moto di uno, che diventa il sostegno dell'altra. Si sostengono, si illuminano a vicenda, ma non si toccano. Allora, impariamo dalle stelle quale deve essere il rapporto tra noi, creature, la santa distanza. E dove lo possiamo trovare questo rapporto perfetto tra le creature? Nella divina volontà. Nella divina volontà, qualsiasi atto una creatura fa, l'atto interno che tu stai facendo, perché è animato da una volontà divina, e questa volontà divina è la stessa volontà che anima il mio atto. Io posso dire con assoluta certezza che sto facendo l'atto che stai facendo tu, è atto mio. Allora, vedi che l'atto che stai facendo tu mi sta dando la vita? Perché io sto facendo un atto, è un atto di vita, la vita è costituita da una successione di atti. Allora, respira che mi dai la vita, pensa che mi dai la vita. Fai un atto interno, quest'atto interno che stai facendo tu mi sta arricchendo perché è atto mio, lo stai facendo con la volontà divina? Sì, è atto mio, perché la volontà divina è mia. Scusa, e quelli che non stanno nella volontà divina anche per loro è vita? Il mio atto diventiamo nella vita. Ecco, dobbiamo, dobbiamo trasformarmi. No, ma io sto chiedendo lei, voglio sentire. Ecco, ecco, per le creature che non stanno nella volontà divina, che non vivono nella volontà divina come vita, è come se loro stanno al di là di questo schermo, di questa comunione di volontà. Quindi non arriva il mio atto. Il tuo atto per Gesù? Sì, sì, il tuo arriva. Loro ne partecipano per quanto disposizioni hanno. Però il tuo atto, più lo fai, più ti fondi con Gesù. Ecco perché usiamo Gesù. Gesù è in comunicazione con tutte le creature. Allora Gesù, tu sei in comunicazione con tutte le creature. E io ricevo la vita e do la vita, sono in comunicazione con tutti gli atti della divina volontà. E siccome tu stai dando la vita a queste creature che anche se vivono fuori della tua divina volontà, non la ricevono come vita, però ricevono il mantenimento. Nel senso che la divina volontà sempre regna in loro, regna con un regime inferiore. Il regime del comandamento, seppure viene rispettato. Il regime della grazia, seppure quell'anima è in grazia. Se quell'anima non è neanche nello stato di grazia, vivere con un regime chiamato proprio, ecco, occhio per occhio, dente per dentro. Pazzino. Sta soltanto lì come una schiava, la volontà divina, a far respirare questa creatura, a darle la voce, con cui questa creatura si serve della voce per bestegnare. Pinghi. Pinghi. No, avevo chiesto di aprire un brincellino, scusate. Scusate. Ho chiesto di aprire un brincellino perché non c'è l'ossigeno. Oh, abbiamo il cielo della divina volontà, abbiamo un peggio subito, ci fa sentire l'esigenza dell'ossigeno. 75% dei nostri corpi sono ossigeno, la nostra anima è tutto ossigeno divino al momento perché abbiamo un cielo immenso, abbiamo iniziato a mettere le costellazioni, abbiamo bisogno di espandere questo cielo. Quindi? E quindi abbiamo bisogno d'aria. Abbiamo. Volete chiudere del tutto o tenere un po' di aria? No, volevo. Sì, ecco, queste creature ricevono, non lo ricevono come vita propria. No, però il nostro atto di girare nella divina volontà e di volerlo fare in nome di tutte le creature è un atto che dispone le creature a ricerca. Più lo facciamo e più questo atto conquista conoscenza, conversioni, pentimento. Sono questi gli atti più potenti, più che andassimo a predicare, a fare le crociate, no, più facciamo questi giri nella creazione, che facendolo per noi lo facciamo anche per tutti. Più, ecco, più abbiamo quest'umiltà per dire qual è la cosa più importante che posso fare in questo momento per il regno del dirimbolere. Sono questi atti. Qual è la cosa più importante che posso fare per la diffusione del regno in questo momento? Sono figlia del dirimbolere. Allora, insieme a tutti i nostri atti esterni per diffondere la verità, teniamo presente che questi atti interni hanno una potenza dispositiva, di disposizione, sono senza confine, raggiungono tutti. E li dobbiamo utilizzare come tale, riconoscerne la potenza. Allora, dicevamo, le creature in cui la divina volontà regna come propria vita, con il regime, come in cielo, così in terra. Ognuna gode dell'atto dell'altro, ognuno sta facendo l'atto dell'altro. Allora, io posso dire con certezza che sto facendo l'atto vostro, perché voi lo fate con la stessa volontà che anima il mio atto e voi state facendo l'atto mio. Voi state parlando, io sto ascoltando, tutto. E tutti noi riceviamo il bene, anche il merito divino di questi atti divini, indipendentemente da chi li sta facendo in questo momento in modo naturale nello spazio del tempo. Tutto in comune, completa comunione di bene. Se la volontà divina non regna come vita, allora io mi metto al di fuori di questa comunione di bene. Ecco per questo i nostri atti servono a guadagnare più figli antivi in volere. Perché come li facciamo? La divina volontà viene chiamata a regnare. Allora crea le circostanze, perché sempre più creature vengono ad entrare in questa comunione di bene. E riconoscano la divina volontà e la facciano regnare in loro, non soltanto come amara medicina, come rassegnazione, come grazia, come abbandono, oppure come in modo umano, dicendo adesso Dio per te faccio questo, faccio quella. Ma come vita, proprio come la divina volontà che fa gli atti suoi nella volontà di questa creatura, come vera e propria vita. Secondo il regime cominciano così in terra. Allora, queste cose, queste chiediamo alla divina volontà adesso di continuare il nostro giro. Abbiamo visto, balbettando proprio i rudimenti, il niente di quello che riusciamo a fare noi. L'atto del distacco, l'atto delle virtù, e diciamo la divina volontà viene a continuare questo giro e viene a mettere tante virtù in noi. Ecco, questi collegamenti tra le varie stelle sono proprio l'esempio di come ciascuno di noi ha una diversa stella. E allora, nella divina volontà, anche se siamo stelle diverse, siamo tutti collegati, ognuno sostiene l'altro, ognuno ha luce dell'altro, ma ognuno deve stare al suo posto. E se io volessi, ah, guarda, questa stella sembra che brilla di più, io ci voglio stare, no, sarebbe un macello per tutte le altre, per me e per qui. Allora, qual è la cosa? Se io sono chiamata ad essere madre di famiglia e a lavare i pavimenti tutto il giorno, e io faccio questo mio atto nella divina volontà, io sto al mio posto, e grazie a questo atto qui, questa stella può stare al suo posto, questa può stare al suo posto, tutte ricevono il beneficio del mio atto. Se io dico, no, adesso lascio la famiglia, mi voglio iscrivere all'università e voglio fare un corso di teologia perché devo andare a predicare il Vangelo fino per tutto l'universo orbe. Questa è una intenzione, pia, umana, però dico, è l'atto che la divina volontà vuol fare in me? Se no, allora questa stella qui diventa buia, non soltanto, ma non può dare più luce a sostenere le altre. Allora, stiamoci al nostro posto dove ci mette Dio, facciamo tutti i nostri atti e facendo il nostro atto in qualunque posto ci troviamo, ci troviamo nel centro, siamo nel centro del trono di Dio e tutti dipendono dal mio atto, tutti dipendono dal mio atto, tutti dipendono dalle mie labbra, tutti dipendono dal mio respiro, il Papa prende dal mio respiro, lo devo fare nella divina volontà, sono il Papa, non può fare il suo lavoro. Allora, prendiamo questo atto dalle stelle, che dicono, Dio mi ha messo qui, io sono la colina del carro, del piccolo carro, sto lì, se non facessimo il mio ufficio divino, regale, insostituibile, sarebbe un macello. Allora tutti mi ringraziano, tutti prendono dal mio atto, eternamente voglio continuare a fare il mio atto, il mio ufficio nel regno della divina volontà. Facendo questo ufficio, sono sostegno all'ufficio di tutti, mi trovo nel centro, faccio gli atti di tutti, gli atti di tutti. Che bello di rendere in volere qualsiasi cosa l'anima fa, sta facendo tutto il resto, tutto il resto, niente, nessun atto è tenuto al di fuori, l'anima partecipa di tutto. Cioè, vivifico nelle stelle, il mio atto vivifica nelle stelle, brilla nel sole, spira nel vento, tutto. Dio, dove si volta e si gira, dice, Anna, stai respirando d'amore per me, dove si volta e si gira. In questa creatura, in questa creatura, oh, sento il palpito di Anna in questa creatura, io la devo ricambiare, questa creatura gli dà una grazia. Sento il palpito di Anna dentro di me, che dice, Dio, ti voglio dire, ma allora mi dà una grazia. Sento il palpito, sento il respiro di Anna, nel cielo, nella luna, nelle stelle, ma io in tutto il creato c'è questa creatura, ma la trovo dentro e fuori di me, è inseparabile. Lei è atto del mio atto. Dovunque opera la mia volontà, lei c'è. Dovunque va la mia volontà, lei c'è. Qualunque cosa sta facendo la mia volontà, lei c'è. Eh, ma non me la posso separare, è vita mia, è vita mia, è atto mio. Chi può separarci dall'amore di Cristo? Nessuno. 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 Vita mia è di tutto il creato. È atto mio, vita mia. Perché? Perché sto respirando nella divina volontà, mi costituisco atto di ogni atto di creatura, e di ogni cosa creata. È la vita del centro, è l'atto primo. La vita della figlia della divina volontà è la primogênita. E da lei è il centro. Che cosa ti unitica? Cioè... Che cosa ti unitica? Nel centro della Santissima Trinità. Da cui parte tutto. Avanti a tutti. Avanti a tutti. Dice il Signore della Parola. Avanti a tutti. Sono andata a cercare quella significativa. Avanti a tutti sono i primi, vuol dire. Gli altri, vanti a me, sono i primi. Sì. Avanti a tutti. Immagina quanto può sottolineare il creatore quando trova l'ostacolo delle creature che non conoscono questa divina volontà. Certo. Si sente soffocare, si sente impedito in tutto, praticamente. E la stessa cosa un po' pure noi, no? La avvertiamo poi. Perché quando veniamo a conoscenza della divina volontà, sentiamo questa necessità di che le altre creature anche la partecipino, o di partecipargliela. Adesso, prendiamo il punto dalle stelle. Impariamo dalle stelle. Ogni stella è attentissima alle altre. Allora, siccome noi riconosciamo la divina volontà operante in noi, quando una creatura parla, siamo tutti attenti a sentirla. Allora, lei stava parlando, ascoltiamo tutti quello che dice, non ci incrociamo con le conversazioni. riconosciamo e adoriamo la divina volontà. Altrimenti, che facciamo? Neghiamo la divina volontà alla gloria. Diciamo, voglio ignorare quest'atto della divina volontà. Sta parlando in una creatura, mostriamo la venerazione che abbiamo tra di noi, con l'ascoltarla. Così pure nei nostri scenacoli. Stiamo, quando una creatura parla, tutti gli altri ascoltano. L'ordine della divina volontà in tutta la creazione. Tant'è vero che la creazione, che la passione di nostro Signore Gesù Cristo, che andrà a vivere nella liturgia della Chiesa la settimana, non è altro che l'immagine della passione che la divina volontà soffre in tutto il creato. C'è una passione, un'agonia della divina volontà. Così come la divina volontà agonizza nel verbo incarnato, così, in lo stesso modo, la divina volontà agonizza nel cielo, è la stessa volontà agonizza nella luce. Allora, come noi la diamo riconosco? Ti riconosco, volontà divina, ti riconosco nel cielo. Tu sei volontà mia. Agiamo insieme. Fammi cielo come te. Oh, che bello, gli spezziamo quest'agonia di essere torturata, di essere negletta, di essere misconosciuta, di essere ignorata, di essere calpestata, perché l'uomo va sulla luna, ecco, io vado sulla luna, che fa? Il Dio gli mette quel poco di scienza per riuscire a costruirsi una navetta e arrivare lì, e l'uomo si crede chissà che cosa, che ha capito della luna? Nulla. Muore? Nulla. Adamo aveva bisogno di andare sulla luna. Adamo la possedeva la luna. Adamo la dominava la luna. Adamo possedeva la luna, stava lì, aperta per... Ci arriviamo all'atto di luna. La luna. Divina volontà, che cosa fai nella luna? Che cosa fai nella luna? Allora, la luna che brilla, che è presente nel cielo quando tutto è silenzio e notte, ci presenta una qualità, un attributo speciale dell'amore di Dio, che è l'amore nascosto, l'amore vigile, l'amore dolce, l'amore perseverante, l'amore di sacrificio, l'amore che persevera, l'amore che incoraggia. Sembra che la luna, quando noi camminiamo nella notte del peccato, del dolore, la luna ci incoraggia e ci dice sicuramente il sole sorgerà. Vedete, io brillo della luce del sole, se il sole non ci fosse, vedete che è notte adesso, però io vi do l'immagine che il sole c'è, il sole non tarderà. Allora con me, camminate, camminate questa notte, l'alba non tarderà. Allora questo atto di luna, questo atto di dolcezza, di sacrificio, perché lei si sacrifica, sta lì tutta la notte, mentre di notte si pecca, di notte si dorme, la luna sta lì che veglia per tutti, che ripara per tutti, che adora per tutti. Non ci fa sentire l'atto di luna, l'atto materno di Maria Santissima, l'atto di nostra Madre Santissima, l'atto dell'amore più puro, l'atto materno. che è amore di sacrificio, amore di nascondimento, amore di perseveranza, di degli, amore che si sacrifica per tutti, amore che indica, la mamma indica sempre Gesù, fate quello che lui vi dirà. Ci porta sempre da Gesù. La luna trae a sé, ma soltanto perché lei punta al sole, e quando il sole sorge, lei sparisce. Allora quanto è bello questo atto di Moana, la prossima volta che vediamo una luna, come questa luna, vediamo la luna nel cielo, che è bello questo atto di luna, questo è l'atto mio, è l'atto mio che è bello, di una volentaglina a fare in me questo atto di dolcienza, di pace, voglio essere madre a tutte le creature, metti in me questo amore materno, questo amore che desidera sempre mormorare preghiera, che non si stanca mai, che vuole sempre attendere il sole della divina volontà. Allora questo è un atto di luna, e la prego, prego. Nella coluna dei santi c'è un continuo partecipare a questa volontà divina? Certo, certo. I santi partecipano della volontà divina, che è l'atto in cielo, ma il bello del vivere è nel volere, che siccome adesso creature in terra vivono della stessa volontà di cui vivono in cielo, si aprono dei nuovi canali per i santi, con cui, ecco, possono andare a fare la volontà divina, e ricevere la volontà divina, così come la fanno e la ricevono in cielo. C'è la partecipano anche delle sofferenze quando Gesù non può agire su una creatura, magari. Ecco, noi abbiamo un vantaggio rispetto agli angeli santi, perché loro non possono più soffrire, nel senso che la loro preghiera, il loro ardere per la conversione, il loro accorarsi per le creature, non può essere mai scostato da una beatitudine infinita, immensa. Il privilegio che noi abbiamo adesso in terra, rispetto ai santi, è proprio quello che noi possiamo soffrire, possiamo unirci ad un atto conquistante, allora, così come gli angeli santi partecipano al nostro atto, così come hanno sofferto in terra, nella loro visione beatifica partecipano al nostro atto di sofferenza. Non è un strutto già, non è un strutto. Sì. Cioè, noi ci possiamo legare alla professione di Gesù, in questo pellegrinaggio sulla terra. Certo. E ripetere anche noi la sofferenza dei santi, che hanno patito sulla terra. Anche se loro hanno patito quelle sofferenze, nella loro umana volontà, perché non erano a possesso di queste conoscenze, noi lo possiamo fare per loro. E loro ne ricevono gloria aggiuntiva, come se lo avesse fatto nella divina volontà. Tutto si mette in comune. Ci sono questi vassi comunicanti tra cielo e terra, in cui la divina volontà mette tutto in comunicazione. Per dire, che i santi prendono a queste nuove conoscenze, per ogni atto che la creatura c'è a fare nella divina volontà? Sì. Sì. Perché tutte le conoscenze che loro non hanno avuto in terra sulla volontà, la beatitudine non è altro che la conoscenza della volontà di Dio. Allora, tutto ciò che noi acquistiamo di conoscenza, sono come dei semini adesso, anche se noi adesso in terra non ne possiamo godere appieno sensibilmente della beatitudine, perché altrimenti ne scocchieremmo di gioia, non potremmo vivere. Però sono semi che sono in noi. Quando passiamo in cielo, in un istante vanno a scoppiare, ci faranno eternamente morire di amore, morire di gioia, morire di felicità. Allora, più atti facciamo, più conoscenze acquisiamo, ma conoscenze semplici, quelle che facciamo non quelle oriudite, non quelle che ci sembrano non alla nostra portata. La verità è semplice, Dio è semplice. Allora, più beatitudini goderemmo nel cielo. E allora, non soltanto noi, ma anche i santi e gli angeli che in terra non hanno avuto queste conoscenze, vedendo queste nuove conoscenze che si manifestano sulla terra e vengono tradotte in atto, come lo stiamo facendo adesso, vedono questa nuova conoscenza attualizzata, siccome l'atto viene fatto da una volontà che è divina e loro vivono della stessa volontà, loro stanno facendo quell'atto. E quell'atto è fonte di nuova beatitudine. Quell'atto è fatto grazie a una nuova conoscenza acquisita in terra. E a loro, come parassiti divini, ne ricevono tutta la beatitudine a vita. Adesso continuiamo nel giro e facciamo sorgere il sole che non ne può più, può ne sorgere. Adesso stamattina, avendo fatto il nostro atto preventivo, con l'atto preventivo il mio sole esorge. La mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti. Il sole è il relatore, è l'altoparlante della divina volontà. Il sole è proprio il relatore perfetto, è l'atto che più di tutti ci fa vedere e sentire sulla nostra pelle e constatare dagli effetti che il sole produce la potenza della divina volontà e l'unità della luce della divina volontà. Quanto più spesso giri nella mia volontà per ripetere i tuoi atti, tanto più grande si forma la rotondità del globo di luce e quanta più forza di luce possiede, tanto più si possono stendere i suoi raggi che devono illuminare il regno del fiat. Allora più ripetiamo questi giri, questi atti, e più la circonferenza del sole si espande in noi. Ogni atto, preghiera e pena che l'anima fa entrare nella luce della mia volontà diventano luce e forma un raggio in più nel sole dell'eterno volere. Ogni atto fa nel peccato. Sì, ogni atto fatto nella divina volontà, nella divina volontà. Nella divina volontà il peccato non c'entra. Sono due cose completamente diverse. Peccato, che vuol dire? Il peccato lo produce l'umana volontà, quindi la divina volontà lo distrugge. Sì, sì. Noi siamo lontani, circondati da questi atti, siamo lontani, così lontani dal peccato, come lontano il cielo dalla terra, come veramente siamo nell'assoluto ambiente, nella sfera della sicurezza. Più ci chiudiamo, più ci facciamo circondare da questi atti, che diventano poi i nostri garanti, i nostri difensori. Luisa una volta disse, ecco io vedevo i giri, gli atti che avevano fatto, e questi atti si mettevano intorno a me, perché sono atti viventi che non finiscono più, sono atti, sono vite divine, e dico, questi atti sono atti che continuano per l'eternità, e si mettevano intorno come dei soldatini, la proteggiamo noi. Allora, questi atti che stiamo facendo, noi ci stiamo, ci stiamo, ci sta formando per noi un esercito vivente che ci protegge. Allora, moltiplichiamo questo esercito con armi divine. Gli atti poi, gli atti stessi, sono grati alla stessa creatura, ci portano nuove conoscenze, ci difendono, ci arricchiscono, ci trastullano, ci fanno riposare, ci guidano. Questi sono gli amici nostri, i fratelli nostri, i padri nostri. Questa è la vita nostra, gli atti nella divina volontà. Quanto sono belli. Ecco, adesso, fermiamoci un attimino, così almeno continuiamo questo giro, poi alla fine, dopo un po', se ci sono domande, così, se penso che... Allora, ecco, il sole, quando parliamo del sole, mamma mia, qua in realtà ci sarebbe tanto da dire che possiamo fare un'unica cosa, restare mutoliti, il sole della divina volontà. Come iniziamo a parlare del sole? Pure Luisa, mi ricorda Luisa, quando, mi pare così, all'inizio del 25, lei nel 1928, venne portata nel convento delle suore del divino zelo, e lì le venne data una stanzetta dove lei stava vicina al tabernacolo, vedeva Gesù nel tabernacolo, e queste suore avevano il cortile, e diceva Luisa, guarda, era la festa, sembra l'8 ottobre, il santo rosalzetto ottobre, il 25, dice Luisa, vuoi uscire un po' a prendere un po' di sole, guarda che bella giornata, allora la mettono sulla sede, e Luisa, tutto, tutto, oddio Gesù, tu me ne hai detto tante persone, io sono, era così emozionata, era così emozionata adesso, mi faccio baciare dai raggi di questo sole, perché lei ne aveva sentite tante, era tante volte andata a cercare la volontà divina nel sole, sentiva l'atto palpitante del sole, c'è Gesù, tutto, tutto, ecco, esco un cuore, e si sentiva invasa dai raggi del sole, e dice, oh, sentivo il bacio della divina volontà nel sole, e quindi, ecco, per noi, la divina volontà, che ci bacia nel sole, che ci ama nel sole, che ci produce infiniti effetti, nel sole, che ci dà proprio l'esempio lampante, di come la divina volontà fa un unico atto, luce, luce, luce calda, luce infuocata, e questo atto produce effetti infiniti, è feconda, migliaia e milioni di tonnellate di messi, e porta, e girando intorno, con i moti dei pianeti, della rivoluzione del sole, il moto del sistema solare, porta l'avvicendamento delle stagioni, porta infiniti effetti, tutto il bello, la purificazione, la nostra pelle diventa più liscia, più divida, più colorita, quando ci mettiamo nel sole, ecco, quanti benefici effetti, il sole fa un atto solo, che lo guardiamo, che lo pensiamo, che lo ringraziamo, e lui, non viene un po', lui continua, dice, io mi do a tutti, faccio il mio atto, questa è l'anima che vive nella divina volontà, fa un atto solo, che vuol dire, fa tutti gli atti messi insieme, e se riceve ingratitudini, se è considerata, se è visibile, se è invisibile, non importa, io faccio il mio ufficio nella divina volontà, questo è il sole, del divino volere, e questo sole ci dice pure che, ecco, l'unità della luce, dovunque c'è luce, questa luce non la possiamo dividere, allora, la luce che illumina questo pezzo, di questa sta, questo, ecco, cerchio qui, è la stessa luce, che non le posso separare, è una luce compatta, indivisibile, ecco, quindi, il fatto che la luce sia compatta, indivisibile, ci dice quanto, gli atti nella divina volontà, sono tutti compatti, indivisibili tra di loro, allora, io se ne faccio uno, li faccio tutti, se sto qua, sto pure lì, perché tutto è luce, se sto nella periferia, sto anche nel centro, che è il centro del centro, ma, abbiamo visto, il tastarello di Fatima, quando il sole proprio, la bellezza del sole, facendo gli atti, nella divina volontà, ne è capitato, sì, il sole, sì, sì, andiamo avanti, così poi alla fine mettiamo tutte, penso che è meglio, così andiamo con lo svolgimento, ma sosteniamoci un attimo, ecco, l'interminabilità di luce, un atto solo, inseparabile, indivisibile, tutte queste sono le proprietà della luce, dell'unità della luce, questa luce investe tutto, investe tutto, non è che possiamo dire a sto raggio di sole, no, scusa, lascia un pezzo di buio, no, lui investe tutto, e incorpora tutto, così pure l'unità della luce, della divina volontà, investe tutti gli angeli, i santi, dovunque sta la divina volontà, tutto è investito, dovunque si fa un atto nella divina volontà, lì è presente la divina volontà, investe tutto, e incorpora tutto, tutto incorpora, allora stare nella divina volontà, vuol dire stare nell'unità della luce, possiamo immaginare che la Santissima Trinità, ha il centro, il suo trono nel centro del sole, e insieme alla Santissima Trinità, facendo un atto nella divina volontà, ci troviamo al centro di questo sole, così come ci troviamo nella circonferenza, e così come ci troviamo in ogni raggio, perché la luce è unica, è indivisibile, è compatta, l'unità della luce della divina volontà, che ci viene proprio manifestata, trasmessa nel sole, è la verità più bella del vivere nel vivere, è proprio l'atto unico, che possiamo carpire, possiamo immergerci, ci facciamo eglissare, ma ci ammutolisce, allora, allora, è divina, sì, allora, ecco adesso ci sono un po' di, vogliamo fare una pausa, sto facendo l'attrice della divina volontà, non possiamo interrompere questo giro, se vogliamo fare una pausa, facciamola, facciamola, però facciamola in silenzio, facciamola in silenzio, facciamoci bruciare, facciamoci penetrare, dai raggi del sole della divina volontà, adesso io mi voglio un attimino godere la scena, perché sto vedendo un cielo bello, tersissimo, immenso, stupendo, con tante stelline, belle costellazioni, vedo l'umiltà, vedo l'amore materno, la fede, la speranza, la caratteristica, ovvero il cielo stellato, è una luna, così perseverante, che mormora continuo amore, è questo cielo stellato, lo vedo, è bellissimo, non mi puoi negare questa vista, è mio, ecco, e lo vedo dappertutto, allora io me lo voglio vedere, e la divina volontà, se lo sta godendo in ciascuno di noi, Madre Santissima, sei tu che ci stai, conducendo in questo giro, noi non ce lo siamo dimenticato, tu con il tuo amore materno, con il tuo amore nascosto, sei tu presente, tu che stai facendo l'atto in noi, che ci stai guidando, piccoli, bambini, inesperti, piccini, nel giro della creazione, ci stai dando, tanti di quegli atti, questo cibo divino, ce lo stai imboccando proprio, dal tuo seno materno, allora Madre Santa, noi ci sentiamo bruciati proprio, da questo sole della divina volontà, ci sentiamo trasformati, ci sentiamo fatti più belli, più santi, e io vedo tanta bellezza, tanto amore, ecco, grazie Madre Santissima, che così come tu dici, il Santo ha fatto prodigime, santo è il suo nome, sia gloria alla volontà di Dio, gloria alla santità del divino volere, che si sta trasmettendo in noi, ci sta trasformando, grazie a questo giro nella divina volontà, che continueremo a fare per sempre, allora Madre, aiutaci, aiutaci, dacci la forza, dacci la forza anche, perché noi siamo creature, ancora qui sulla terra, il nostro intelletto, la nostra memoria, la nostra volontà, abbiamo bisogno che tu, ci carichi le pilette, ci dai il respiro, il riposo, il vigore, e la freschezza, allora ci riposiamo in te, e preghiamo un'ave, insieme agli angeli, ai santi, e te la vogliamo pregare, come la prima ave, che si è pronunciata in cielo, e l'ave che pronunciò, l'arcangelo Gabriele, nel momento dell'incarnazione, con questo, intendiamo rinnovare, l'atto dell'incarnazione, e adorare la volontà di Dio, nel verbo fatto carne, recitiamola insieme, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta, fra le donne, benedetta, il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, tecratori, adesso è nell'ora, della nostra morte, amma me. Grazie mamma, allora dai, dobbiamo continuare, mamma mia, aiutami. Allora, andiamo, continuiamo un'altra, la divina volontà, vuole ancora mettere qualcosa in noi, e lo sa che ci sta tirando, ci sta strizzando, ci sta aprendo, ci sta espandendo, come Gesù dice a Luisa, allungati, 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 così sta dicendo pure a noi, sta proprio, ecco, mettendo alla prova la nostra capacità, e come noi ci sentiamo di non poterla contenere, nello stesso tempo, ci sta aumentando la capacità, se ci sentiamo un pochettino stante, se ci sentiamo che non abbiamo potuto ritenere tutte quelle cose, il segno è perfetto, se vi sentite così, esattamente come ci dobbiamo sentire, vuol dire che la divina volontà sta operando, e vabbè, qui abbiamo bisogno di un mulino a vento, abbiamo bisogno di un vento, vento divino, è un vento, tanti venti ispira la divina volontà, un vento di cui abbiamo bisogno è, un vento impetuoso, vento impetuoso, che, ecco, se, dopo il nostro atto preventivo, il nostro umano volere, ha portato delle nuvole, di turbazione, di scoraggiamento, di pensiero di noi stessi, dici, ma io, ma posso vivere nel divino volere, via, ma io, ecco, come farò a fare questi giri, via, via, il vento impetuoso, della divina volontà, spazza via, tutte le passioni, tutte le nuvole dello scoraggiamento, delle debolezze umane, dei nostri vizi, delle nostre cattive abitudini, diciamo, vieni, vieni, impetuoso vento della divina volontà, spazza via tutto, spazza via tutto, congela il fuoco delle nostre passioni, congelaci, di modo che noi, ecco, diventiamo talmente impassibili, che ci facciamo completamente trasformare dalla divina volontà, da questo vento impetuoso. Abbiamo bisogno anche di un altro vento. E' così, un vento freddo, che se ci sentiamo ardere, da tentazioni, da passioni, da vizi, questo vento, ancora più dell'acqua, spegne tutto immediatamente. L'atto della divina volontà, chiamato vento, che spesso e volte noi sentiamo, sulla nostra pelle, con i nostri sensi, questo atto, presente nella creatura, vento, è proprio quest'atto di volontà divina, che vuole spazzare via, tutto quello che forma le nubi umane. E' l'atto, il vento dell'atto attuale. Ci ricordiamo l'atto preventivo che abbiamo fatto? Sì. Con l'atto preventivo il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata, in tutti i suoi atti, come se fosse un solo atto. Però, che cosa succede? E a volte succede che, l'atto preventivo può essere umbrato, oscurato, dai modi umani, dalla stima di sé, dalla negligenza, dall'umano volere, che formano come nubi, tante nubi, innanzi al sole, che rendono la sua luce, meno vivida, sulla faccia della terra. Allora, entra in campo, l'atto attuale. L'atto attuale, invece no, non è soggetto a nubi, anzi, a virtù di scacciare via le nubi, se ci sono, ma con tale potenza, da far sorgere nuovi soli, con tale vividezza di luce e calore, da far sorgere tanti nuovi soli, uno più bello dell'altro. Però, figlia mia, dice Gesù, entrambi sono necessari. L'atto preventivo, quello iniziale, stamattina, la decisione ferma e convinta, di voler mettere a costo della morte ogni atto nella divina volontà. Entrambi sono necessari. Il preventivo, dalla mano, tira su, forma il piano all'attuale, forma il canovaccio, forma proprio il cielo, il vuoto di tutto, l'atto preventivo che abbiamo fatto, in cui può sorgere il sole. L'atto attuale, conferma e sfande il piano del preventivo. Allora, quando c'è qualche nube dell'umano volere, che sembra, quando c'è qualche nube dell'umano volere, che sembra quasi voglia rendere meno vivida la luce del mio sole, allora ci dà l'opportunità, ecco, ci dà la consapevolezza, ehi, divino volere, io voglio che tu regni, via via, vento impetuoso della divina volontà. Io confermo e espando il mio atto preventivo. Quindi, quello che dice Gesù, nel suo passo, sull'atto preventivo e l'atto attuale, l'atto attuale, che è quello che è in mezzo alla nostra giornata, quello che facciamo adesso, ci sono un po' stanchi, un po' chai, ecco, porta via le nubi dell'umano volere, della debolezza, della natura, che fa risplendere il sole ancora più splendente di quello di prima. Quindi le nostre debolezze benvenute, perché ci danno anche l'opportunità di moltiplicare i nostri atti attuali. Ecco, se noi ci sentissimo, sempre così, ecco, saremmo talmente cristallizzati, che altifici, che saremmo così presi in noi stessi, nella nostra luce, che saranno così, nel bel estate, invece no, Gesù qui ci vuole, a pedalare, ci vuole anche a soffrire, ci vuole a macinare, ci vuole a fare nuovi atti, allora l'umana natura, è solo ancora più bello. Un'altra debolezza, l'ho fatto di nuovo, perché non riesco a smettere di fumare, ci provo ancora, voglio dire. Oppure, ecco, qualsiasi altra cosa. Abbiamo bisogno di ancora altri venti, il vento dell'amore divino, vento caldo, come il vento, non lo so, del mare, lo scirocco, ecco, non so come si chiamano, come l'orizio di la regale, sì, ecco, però noi ci mettiamo, ci mettiamo in riva al mare, e godiamo anche di questo, questo vento, questo vento appena appena un po' caldo, e ci porta i baci, i baci dell'amore di Dio, magari, può sembrare che un impegno si cancella, dice, dice, figli miei, figli miei, vi sto riempiendo di atti, che vi stanno trasformando talmente tanto, quello che dovremmo fare, non so come dice, entrate nella nostra cameretta, riposarci, o andarcene al pincio, o starcene a casa nostra, o andarcene di fronte a un tabernacolo, o semplicemente sederci senza fare niente, così, e dire, sì, di volontà, vieni, vieni, vieni a continuare quest'opera, quest'opera, grazie di volontà, ma hai fatto un uomo nuovo, un'anima nuova, adesso voglio continuare a ripetere questi atti, vedi che bello, sento già la familiarità con questi atti, sono atti miei, adesso sono degli amici, siamo una compagnia, ecco, il sole, la luna, il cielo, le stelle, stiamo facendo lo stesso atto, con loro posso dare luce, posso dare vento impetuoso alle creature, posso dare vento fresco alle creature, ecco, passo nella metropolitana, e vedo tante creature, tante volte perse nell'umano volere, ecco, l'esperienza per esempio di andare in metrano, ma da tanto tempo, tante persone, tante persone, diversi colori, diversi modi, ecco, se vedo delle persone che sembrano così, magari emarginate, oppure io gli faccio un sorriso di sole splendente, di volontà di vita, queste persone si sentiranno conquistate, quest'atto di volontà divina, ma con una, si sfrigiona in una maniera talmente potente, che glielo va adottare a tutte le creature, queste sentiranno, dicono, ma che c'è, stasera vanno a cagliare, qualcosa di diverso in me stasera, noi non lo sapremo su questa terra, però succede, e allora facciamolo girare, facciamolo girare questo giro, come noi lo continuiamo, così lo diamo a tutte le creature, ecco, impariamo, impariamo anche a starci, in compagnia di questi atti, ed a godere della loro compagnia, impariamoci a starci soli, anche con gli atti che stanno nella divina volontà, ecco, godere la loro compagnia, sentirci, sentirci a posto, sentirci pieni di questi atti, così non abbiamo bisogno della compagnia, della tv, come la sentivamo ieri, magari, non abbiamo tanto bisogno di, ecco, di, di tante conversazioni, tante cose, se no, io voglio adesso, voglio immergermi in questi atti, voglio sentire la loro compagnia, ti bello, adesso siete immensi, i miei difensori, non vi lascerò mai, continuiamo, dice, volontà divina, vuoi portare il vento impetuoso, che mi scuote dall'etargo, della mia umana volontà, il vento freddo, che congela il fuoco, delle mie passioni, che ancora ribolliscono, il mio risentirmi, il mio essere permalosa, ma permalosa di che? Ma la volontà divina opera, perché il sole se la prende, se uno non gli dice grazie continuamente, eppure, matura, vivifica, feconda, fa bene a tutti, io voglio fare l'atto di sole, vieni volontà divina, con il tuo vento freddo, smorcia il fuoco delle mie passioni, con il tuo vento caldo, infiamma mia di amore divino, ecco, un vento rinfrescante, un vento rinfrescante, porta a me un atto nuovo, fammi sentire creatura nuova, creatura fresca, creatura di primavera, ecco, adesso, a marzo, vediamo che tutto si rinnova nella natura, la nostra anima, il nostro essere, ci abbiamo 15 anni, secondo il calendario naturale, ce ne abbiamo 40, ce ne abbiamo 75, ce ne abbiamo 68, non fa nessuna differenza, quello che è la volontà divina, vede in noi, una neonata nella divina volontà, alimentata da questo vento fresco, una bambina, più bambina dei bambini, che stanno adesso correndo la maratona, oppure giocando nel parco, ancora più bambini, il bello è che poi, ecco, il mondo, il mondo con le sue leggi, il mondo dell'umano volere, il mondo, come dire, quando noi ci distacchiamo dal mondo, pur vivendo e facendo i nostri atti, il nostro ufficio, però, diciamo, sappiamo che la felicità non ce la dà il mondo, il mondo stesso, più avanziamo nell'età, e meno si aspetta da noi, oh, che bello, ci vengono i capelli bianchi, iniziano le rughe, oppure ci sentiamo meno attraenti, colpiamo meno, ecco, vediamo i cartelloni pubblicitari, ci sono questi canoni di bellezza, che sono così differenti, diversi, che bello, il mondo mi ha dismesso, non si aspetta più niente da me, non mi fa più nessuna pressione, che bello, e adesso non si aspetta niente da me, invece gli posso dare tutto quello che ci ha, e posso vivere libera, 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 finalmente, perché non ho, non ho più perché, perché il mondo dice, ormai tu sei in età pensionabile, ormai tu, oppure hai fatto la tua vita, oppure non devi fare, niente, adesso, posso concentrare, posso vivere la vera vita in Dio, posso essere la vera neonata, posso essere la vera creatura, giovane, fresca, bella, vigorosa, energetica, neonata, ma, ma più dei neonati, che stanno nascendo in questo momento, al gemello, o partoriti, dal ventre di una madre, sentiamoci così, ecco, in questa comunione di atti, noi possiamo dare tutto al mondo, e il mondo non ci può dare niente, di quello che noi già non abbiamo, il mondo non ci può dare niente, perché non abbiamo bisogno di niente, ecco, ci rendiamo conto, come la vita dell'anima, che vive nella divina volontà, è una vita fatta nascosta in Gesù, noi ci rendiamo di lui, riceviamo questi atti, lo seguiamo nei giorni, ci facciamo condurre la nostra madre santissima, ci rendiamo di questi atti, e poi, sentiamo in silenzio, usciamo fuori, nessuno lo sa, nessuno lo sa, nessuno se l'immagina, che vedono, e vedono, per quanto mi riguarda, ecco, la divina volontà, è talmente felice, talmente gioiosa, di questa comunione, di atti che stiamo facendo, che non può far a meno, di lanciare i suoi figli, in questo giro, che entrano anche con le loro voci, con la loro presenza, ci chiamano, e anche in modo naturale, visibile, percepibile, con i nostri sensi, con la nostra natura, il contento della divina volontà, e la comunione, dei sanchi e degli atti, nella divina volontà, Sor Franceschina, sta facendo questo giro, insieme con noi, perché lei vive, di questa stessa volontà, questi sono gli atti, questi sono gli atti, che le sta facendo, allora, con questo animo, con questo vento rinfrescante, vogliamo portare, sollievo, anche a tante anime affrante, a tante anime, che si sentono, così oppresse dal mondo, che domanda tanto, domanda tanto, ed è spietato, è spietato il mondo, è spietato, perché, devi produrre le cose, che fanno piacere al mondo, se non produci le cose, che fanno piacere al mondo, secondo i canoni del mondo, secondo le economie del mondo, sei un oggetto, che sei inutile, allora, il mondo, che ha queste leggi atroci, e di morte, noi vogliamo portare, nella metro, in tutte le case, dove ci sono persone sole, dove ci sono persone affrante, dove ci sono persone scoraggiate, che si sentono abbandonate, questa voce del divino volere, che dice, ma no, tu sei vivo, io ti amo, sei una bimba fresca, neonata, la vita è in te, come adesso cominciasse, ecco, portiamolo questo atto, perché milioni di persone, in tutti i continenti, in tutto l'universo orbe, in tutte le generazioni, hanno bisogno di questo atto, rinfrescante, di questo atto, che porta alla nuova vita, e così pure, quando noi ci alziamo, in un nuovo giorno, ecco, domani, dopo domani, dice, che bello, oggi sono più giovane, che bello, oggi rinasco, oggi rinasco ad una nuova vita, che bello, oggi sono più felice di ieri, sono ancora più felice dell'altro ieri, domani sono ancora più felice di oggi, che bello, allora, quest'atto, rinfrescante, accettiamo, ancora nuovi atti di vento, nella divina volontà, così, la prossima volta, che lo sentiamo, anche il nostro respiro, il vento sulle nostre guance, anche quello che ci raffredda, quello che ci fa caldo, riconosciamo questo atto, e non diciamo, oh, c'è troppo vento, non diciamo, ah, ti riconosco, vento di volontà divina, ci accetto per il lavoro, che stai facendo, dentro e fuori di me, perché tu contieni un atto, questo atto, io lo voglio fare mio, così, mi costituisco, vento, in ogni creatura, vento impetuoso, vento rinfrescante, vento caldo, e anche, ecco, una dolcebrezza, una dolcebrezza, di quelle che appena percettibili, come quella che sentì Elia, quando stava nella caverna, lui voleva a Dio, era scappato, lo volevano uccidere, si vanno lì a nascondere, e dice, ma dove sta Dio, il tuo, ah, dove è il tuo, no, Dio non c'è nel tuo, è un incendio enorme, no, non c'è l'incendio, alla fine un sacco di sti fenomeni, lui non sentiva Dio, alla fine stava lì nella caverna, e sente, ah, ecco, eccolo, eccolo, e sente lo spirito di Dio, dice, ah, nella dolce, sottilebrezza, appena percettibile, che si sente nella pietra, nella calma, nel silenzio, interno, e anche esterno, noi possiamo sentire la voce dello spirito, che è il nostro compagno, lo sposo dell'anima nostra, che continuamente ci parla, ci parla, ci parla, ci parla, non la smette mai, è l'amico intimo, inseparabile dell'anima nostra, lo spirito santo, e allora, se ci mettiamo raccolto, in silenzio, vieni, vieni spirito santo, vieni a parlare, delle tue cose belle, ci vogliamo mettere nell'atto, di ricevere, proprio, la dolcebrezza, dello spirito, che ci rinnova, che ci istruisce, che ci muove, che ci ispira, che ci trasforma, e questo è un atto, contenuto nell'atto di vento, atto di vento, una linea, allora, cominciamo a entrare nell'ordine delle idee, che tutte queste cose naturali, non sono altro che delle immagini, in chimica, fisica, e termodinaca, in realtà, quello che c'è dentro è un atto, è un atto, e noi questi atti li stiamo ricevendo, li stiamo usando.